che? io gli ho fatto un regalo a mamma. davvero? che regalo gli hai fatto? un bebè per lui, a lui non gli so posso dire. ah è una sorpresa? e qual è il bebè? papà? si? e lo regalo il nome? si? e che ti farà il nome? così si lo può portare a casa a casa sua? si, così può giocare una bella idea d'accordo